Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, due chilometri di coda tra Valdarno e Arezzo, in direzione Bologna ralentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per un incidente in direzione Firenze, tre chilometri di coda tra Prato Ovest e Prato Est e un chilometro di coda tra Firenze Nord e il Bivio per la 1 in direzione Pisa. Sulla Fipili code a tratti per traffico intenso tra Lasra, Segna e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Sulla regionale due cassi a restringimento di carreggiata nei comuni di Barberino e San Casciano, Val di Pesa, all'altezza del chilometro 270. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!